C'è grande fermento a Pescara per il Natale 2023. Nell'arco di tutto il periodo delle festività, mercatini in centro, laboratori per bambini, concerti, zampognari a scaldare le serate e poi la notte di Capodanno in piazza con Umberto Smaela e il primo dell'anno con IPU nell'area di Risulta, una grandissima serata gratuita. L'amministrazione comunale ha inteso organizzare un cartellone trasversale per tutte le età, come spiega al microfono di Teleregione l'assessora alla cultura Maria Rita Carota. E soprattutto mi piace l'idea che abbiamo sviluppato, già sperimentata l'anno scorso ma quest'anno ancora sviluppata in maniera più concreta, una massiccia presenza di eventi nelle periferie perché l'atmosfera natalizia sia percepita tale anche nelle zone che non sono più centrali della città. Quindi ogni giorno ci sarà qualcosa da fare? Diciamo un po' se non proprio tutti i giorni ma sicuramente nel periodo da intorno al 15 dicembre fino all'Epifania ci saranno tanti spettacoli. Ricordo anche degli spettacoli che ci saranno all'auditorium Flaiano con musica proposta da tre tenori, uno spettacolo musicale con le musiche di Walt Disney, quindi tanti bambini sono sicura che insieme alle famiglie accorreranno. Insomma ce n'è per tutti i gusti. Grazie. Grazie. Grazie.